Buongiorno a tutti, eccomi qua. Allora, perché questo video? Perché questo mettersi in mostra? Diciamo che è proprio fatto per mettere in mostra un lato della mia vita, un lato purtroppo preponderante della mia vita di questo momento, ossia il lato del malato, il lato del malato di cancro, nello specifico. E ho pensato tantissimo se fare questo video, che vorrebbe nella mia testa in questo momento essere il primo di una serie di video, oppure nel non farlo. E c'è stato veramente un dialogo interno all'interno del mio cervello, sembrerà incredibile che funzioni così, tra la parte che diceva, dai dai, è proprio il momento buono, è buono per te, è buono per chi ti può ascoltare, e la parte che diceva, sono cose tue, non devono interessare agli altri e soprattutto è una sfera privata che tocca emozioni e sentimenti troppo intimi per essere messi così in mostra. Teniamo conto che io sono malato, ho scoperto di essere malato di cancro ormai da tanti anni, e nonostante questo solo oggi sono qui a parlarne pubblicamente in una forma che non sia quella scritta, forma in cui mi sono sempre trovato abbastanza a mio agio e che ho sempre trovato molto protettiva nei confronti di chi scrive, nel senso che la distanza che si mette una volta pubblicato il post, lasciato le righe scritte a mano, è una distanza di sicurezza nella quale mi trovo molto bene. Quella di mettere in mostra la mia faccia mentre parlo di questo è una forma di mostrarsi molto differente, una distanza che sento sin da subito molto differente, anche se mi sto solamente presentando, la fine sto solamente presentando questo progetto, questa idea insomma. Comunque l'idea base è parlare del tumore, parlare di cosa vuol dire avere un cancro e parlare di come la vita cambia nel male ma anche nel bene, di cosa ho scoperto in questi anni, di quali sono tutte quelle piccole cose a cui di solito non prestavo attenzione, che invece adesso osservo con molta attenzione e anche perché no nel descrivere quello che sono le fasi che uno deve attraversare quando ha una determinata malattia, cosa vuol dire andare a fare un esame specifico, cosa vuol dire fare un accremio, cosa vuol dire fare anche un attacco, una risonanza, cose ormai per me molto semplici, però che fino a cinque anni fa io avevo solo studiato ma non avevo mai sperimentato realmente cosa volessero dire. Quindi l'idea è un po' quella di spiegare cosa vuol dire avere avere un tumore. Questo anche per aiutare a far sì che si possa capire com'è la vita di chi è malato di questo tipo di malattia. Sì, voglio essere e vorrei essere anche utile con questi video. Non è una mera dimostrazione, manifestazione del mio ego. Non sto cercando conferme in questo e non sto cercando commenti particolarmente positivi o chissà che cosa. Se verranno benvengano. Ma non è questo. Veramente non è questo. Ho riflettuto appunto molto, come dicevo all'inizio di questo video, sul fatto di pubblicare o no, perché temevo che le ragioni dietro a questo voler fare questi video fossero ragioni dettate appunto dal mio ego, dal desiderio di sentire qualcosa in ritorno. Altro punto sarà decidere quanto profondamente mostrarsi in questi video. Io potrei parlare adesso di tumore in termini medici, spiegando bene che cosa vuol dire, che cosa succede ad un corpo quando delle cellule iniziano a decidere che il meccanismo dell'apoptosi, della loro morte normale, naturale, non li va più bene e decidono anzi di replicarsi al di fuori degli schemi previsti dal nostro corpo, quindi di voler crescere libere all'interno del corpo, all'interno di un sistema nel quale la crescita libera non è la cosa più conveniente, come è evidente che sia. Potrei parlarmi in questi termini, sarebbe un termine abbastanza freddo e forse mi sentirei a mio agio nel farlo. Potrei anche parlarne in termini affettivi e credo lo farò in quest'ultima modalità, cioè io voglio fare questo video anche per parlarvi di come si vive questo, di quali sono i momenti che uno ha in cui piange, in cui non vede nessun'altra strada davanti se non la morte, i momenti in cui deve andare a fare un'attacca e vive quei momenti di terrore, i giorni prima, il giorno stesso dell'esame e i giorni dopo nell'attesa dell'esito, quei momenti appunto di terrore quando si clicca su un pulsante dove c'è scritto visualizzare freddo e si attende a che la pagina carichi il pdf da cui leggere se fondamentalmente potrei vivere ancora o no. E questo è la fin fine di cui si parla. E vorrei parlarvi anche di come cambia la vita quando si ha sempre davanti la chiara idea di poter morire. Tutti moriremo, questa è una consapevolezza che si ha sin da piccoli. I miei bambini di sei anni iniziano a chiedermi della morte, di cosa vuol dire, se è una cosa triste, se no. D'altronde è una domanda legittima, è una domanda che tutti gli uomini e le donne di questo mondo si sono sempre fatte. E tutti lo sappiamo, però il nostro cervello lavora in un modo molto intelligente, ossia non tiene questa informazione essenziale sempre, sempre, sempre davanti agli occhi. Se io dovessi vivere la mia giornata avendo sempre davanti agli occhi questa idea che tanto morirò, forse la vita la vivrei in un modo diverso. Forse mi goderei meno certe cose, forse me le goderei di più, chi lo sa. Sicuramente da quando ho scoperto di avere questa malattia e da quando questa malattia ha iniziato a creare problemi, ancora di più, io ce l'ho davanti questa idea. Ed è un'idea che per fortuna non è davanti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma di sicuro è un'idea presente. Prima. Era una cosa che sarebbe successa prima o poi, senza dubbio, ma quando, boh, qui potevo fare meno di pensare. Adesso? No. Questa è la prima grande differenza, forse è la più grande differenza nella mia vita di prima rispetto alla vita di adesso. Poi ci sono i sintomi, i dolori, i farmaci, le morfine, tutto questo. Però la grande differenza è che bisogna vivere al meglio e almeno io ho scelto di vivere al meglio e più intensamente possibile anche per una forma di rispetto nei confronti di chi mi vuole bene. E parlando di ciò mi vengono in mente prima di tutto mia moglie, ancora prima di mia moglie i miei bambini che meritano di avere un padre per quanto possibile presente e sarà un tema molto delicato quello di parlare di cosa vuol dire avere un cancro e avere due bambini piccoli, nei confronti dei miei amici, della mia famiglia, eccetera. Cioè, io ho scelto di continuare a esserci in questo. Però questa consapevolezza di avere davanti la morte cambia, cambia le persone. E questa è la differenza principale. Cioè, non c'è un modo giusto, non ho sbagliato, di scegliere secondo me. Ci sono persone alla Terzani che nel suo libro Un ultimo giro di giostra, per esempio, libro che già a suo tempo, ben prima di avere la consapevolezza, di sapere di avere un tumore, ben prima probabilmente di avere anche avuto la prima cellula che ha deciso di farsi gli stragassi suoi. Avevo letto e mi era piaciuto molto, in cui l'autore, appunto Terzani, scopre di avere un tumore e decide, dopo aver provato le cure tradizionali, di andare in giro per il mondo a provare tutte le varie, tutte, molte delle varie terapie non convenzionali, per vedere se avevano efficace o no, per sperimentare su di sé queste cose nell'ottica di stare meglio, di guarire. E lui dice all'inizio del libro che il tumore è stato per lui una grande fortuna, che gli ha fatto apprezzare la vita ancora di più e che gli ha permesso di vivere gli ultimi anni di vita con un'intensità ad un livello molto più alto. C'è chi riesce a vivere così? Io no, purtroppo non rientro in questa categoria, anche se ammetto che in certi momenti non avere male e da essere lì magari a giocare con i propri bambini o leggere un libro o guardare la televisione in pace, riesco proprio a godermelo come un momento speciale, cosa che prima non avrei mai fatto. C'è chi invece vive il tumore come un addio non c'è più niente da fare e anche questo va bene così. C'è chi decide di lottare, provarle tutte, c'è chi decide di abbandonarsi alla propria tristezza, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, questo per chiudere un po' il primo video. Volevo proprio presentare quello che è l'idea di questi video, spero di non avervi annoiato. Se la cosa non vi interessa, semplicemente non guardateli. Non è una cosa che, ripeto, faccio per ottenere tot visualizzazioni o per il mio ego. Può essere una cosa che si interessa bene, se non interessa, sono mille altre cose più piacevoli da fare che non guardare Claudio in video che parla della sua malattia. Quindi vi prego, in caso semplicemente ignorate e andate oltre. Va bene. Un caro saluto a tutti, un abbraccio alle persone che mi vogliono bene e ci vediamo presto per una seconda puntata. Ciao ciao!